Verde incolto, sporcizia, incuria, graffiti incomprensibili fatti con le bombolette spray e muri imbrattati e non mancano nemmeno le buche profonde sull'asfalto. Non è un soborgo suburbano di New York ad essere ridotto così, ma un angolo di un centralissimo quartiere di Fano, la Trave. In particolare stiamo parlando della zona del retro della palestra della Trave dove si allena la Virtus Volley e la strada è la via Cimabue. A richiamare la nostra attenzione con una segnalazione di un residente del posto e noi come sempre facciamo siamo andati a controllare. Il cittadino vorrebbe che il pubblico bene fosse mantenuto pulito ed in ordine per una questione oltre che di sicurezza, dato che un tombino rotto e buche profonde anche di diversi centimetri sono un potenziale pericolo anche in funzione dei tanti bambini che giornalmente frequentano la zona anche per una ragione di decoro urbano, dato che in virtù del fatto che settimanalmente accedono alla palestra anche persone che provengono da fuori città, non è giusto né accettabile che gli si presenti uno spettacolo simile e non ultima un giusto desiderio di abitare in un posto che sia decoroso in ogni aspetto, cosa giusta da pretendere per un contribuente locale. Basta vedere il retro della palestra e esce fuori un'immagine di una struttura in totale degrado, con totale degrado in una bella città elegante e poi parliamo alle porte della città insomma, la palestra è in condizioni degradate, basta vedere la foto della palestra è una cosa igienica, antigienica, degradata, proprio una schifezza. Un po' tutta la strada risente, anche di interventi che avrebbero bisogno, avete una sequenza di buche infinita. Tutta la strada, sì, tante buche, tutti quelli che vengono a parcheggiare qua, è evidente, è una cosa proprio indecente. Un tombino rotto anche? Un tombino rotto è molto pericoloso, questo qui da un anno e mezzo, ci sono gli scavi aperti addirittura, degli impianti che non sono stati neanche ricoperti, è una cosa inaccettabile. Per voi che avete comunque le abitazioni qui e che chiaramente avete un flusso anche di persone che interagiscono con voi, non è un bel vedere? No, 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 noi abbiamo sempre convissuto con la palestra, sono 50 anni che io abito qui, però in queste condizioni io non l'ho mai trovata, un degrado assoluto. Chiedete un intervento dell'amministrazione? Sì, un intervento prioritario, perché io, quello che voglio dire, prima di pensare a costruire nuovi impianti, a casa mia funziona così, io sistemo prima la finestra rotta, prima di comprare una cosa nuova, quindi sistemare prima gli impianti vecchi e poi pensare a quelli nuovi.